altro giro altro regalo bello bello ok non prendi la rincorsa il nome del sentiero qua? questo qua oltre finale oltre finale il primo sentiero che è stato fatto subito a sinistra o si sale? destra non è questo a scendere no saliamo merda il terzo sentiero della giornata si chiama oltre finale bello qua abbiamo anche le neviere eccola qua pensa una volta che fuori di testa che era la gente fermate qui dove non ci finisce lì vi so vi so wow direi che il punto è panoramico questo figliata ma hai detto quello lassù il monte carmo allora? ok il monte carmo è là sopra quella è tutta la strada che si fa col furgone perché ti porta alla partenza che poi era lassù di questo sentiero qua qui c'è Luano dietro la rigura di là bello 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 ah ma è di là non farci gli imbrogli anche te eh no ma pensavo di andare a destra ah 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 un po' lo spaccato qua eh questo è ottimo per imparare a far ricordare adesso qua ce ne sono due uno che va a sinistra e uno che va a destra noi prendiamo quello che va a destra e noi arriviamo direttamente all'imbocco dell'altro dai va bene giovanni è un pezzo del cavolo no AHHHHH! 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 AHHHHH!